Salve a tutti ragazzi, io sono Zed e faccio questo piccolo vlog, questa piccola entrata in scena in questo video perché prima di tutto voglio dire che questa è una collaborazione con un altro canale di YouTube, con Annabilly Chaos e anche perché voglio annunciare alcuni piccoli cambiamenti che ho effettuato nel canale il primo tra tutti è che ho aperto un canale di Telegram, quindi per chiunque abbia l'applicazione basta che cerchi nella barra di ricerca, c'è il link giù in descrizione e quindi, oltre a questo vorrei dire anche che sto facendo altre, farò anche altre collaborazioni con questo o altri canali con chiunque voglia commentare e niente, come al solito vi chiedo sempre di lasciare un like commentare se avete qualche idea per il prossimo video, per i prossimi video vi avviso che sto preparando un video un pochino più particolare, più lungo, più complesso, più artistico ma per tutto il resto, diciamo, più o meno le cose sono sempre le stesse mettete like ovviamente alla mia pagina Facebook dove anche se sono poco presente metterò un pochino aggiornamento per il canale, se farò qualche altra cosa e per ora è tutto un... Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!